Ciao ragazzi e bentornati su Ranking, versione europea. Ci siamo presi una settimana di pausa, perché? Perché siamo guardati questi gironi, ci siamo rinchiusi in una caverna, io a Genova ce l'ho sotto casa, non per vantarmi, nei weekend qualcosa sono andato, ma voi avete visto le partite, vi siete rinchiusi? Abbiamo visto tanto, e più del 70% dell'europeo credo sia già andato, quindi ci rimane il rush finale. I gironi alla fine sono forse la parte più bella, perché ci sono anche le squadre piccole che fanno di più, le sorprese, i capocannonieri improbabili, i gironi sono sempre belli, forse non la parte mia. Insomma è più per le scoperte che puoi fare, sia nelle big, perché c'è sempre la ricerca della squadra che può deludere, e invece soprattutto scoprire quelle che possono emergere, però poi alla fine, giro rigira, quando si va nelle ultime otto partite, sono... Sì, sono un po' due tornei diversi, tra l'altro sorprese ce ne sono state diverse, e ne parleremo. Perché appunto, cosa facciamo oggi? Allora, faremo un po' un commento su questi gironi, andremo a vedere i nostri pronostici che abbiamo fatto la scorsa puntata. Tutti azzeccati. Allora, vabbè, non lo dico niente. Non lo diciamo, dai. Qualcosina abbiamo azzeccato, non è andata così male, a parte quelle cose impronosticabili, direi che non è andata così male, però vedremo. Potremmo fare meglio, ma anche molto peggio. Questo è parole sante. Vediamo. Faremo nuovi pronostici con il tabellone aggiornato degli ottavi, e insomma, poi ho qualche domandina da farvi, qualche sorpresina, vediamo dopo. Com'è, vabbè, Samuel le mandano ormai, onnipresente, l'eterno. Ho saltata solo una, forse. Ah, ti ho saltata una, no? Mi sa una l'ho saltata. Non mi sembra. Dici no? Vediamo. I più attenti sono andati. Cioè, voi non avete mai registrato un ranking senza di me. Non credo, non credo. Mi sento onorato. E di ritorno da Salisburgo, tra l'altro? Sì. Giusto? Sì. Come è andato il ritorno? No, no, il viaggio è stato molto lento, ma il ritorno è andato. Diciamo, il viaggio è un'avventura, sicuramente. L'esperienza è molto bella. Mi sono dato un po' il ciclismo, poco. Ok. Però sono già capace di fare ranking migliori dieci ciclisti. Fare le X, non so cosa può essere, l'expected, non so, sopassi. L'expected pedalata. Pedalata al secondo. Pedalata al secondo. Se serve qualche statistica, mi devo informare. Però abbiamo, sono stato anche a vedere l'Academy del Salisburgo con uno scout del settore giovanile e anche uno scout del ciclismo. E hanno parlato un po' delle differenze che ci sono, perché andare a trovare ciclisti è molto più difficile rispetto a trovare giovani calciatori. Anche la mole di dati è molto diversa. E quindi ho masticato un po' di dati anche sul ciclismo. Quindi, insomma... Ero molto contento. Va bene. Alla mia sinistra, Edo Dino, anche detto Edoardo Di Nuzzo, forse il contrario. Sì, sì, sì. Che si è spostato dalla mia destra, dalla sinistra, perché sostituire Francesco Pitrella che ci ha rilasciato. Non è facile. Non è facile, non è facile. Non lo so. Quindi, insomma, si compone un po' questo tridente, appunto, meno Francesco che è partito per la Germania, il tridente che ha fatto i pronostici la scorsa puntata e quindi noi tre, appunto, vedremo un po' come sono andati. Anche per lui, viaggio semplice, ha cambiato il volo stanotte. Sì, a Francesco gli hanno cancellato il volo al quattro mattino, ha speso una cifra che non dirò in live per avere un altro volo. Non lo dico perché sennò non lo fanno passare nel riporso. Questi sono problemi suoi, però alla fine penso che sia arrivato. Adesso lo chiamiamo dopo la puntata. Sì, sì, lo chiamiamo, lo chiamiamo. Ok, adesso, prima di iniziare velocissimamente le solite cose, mi raccomando, iscrivetevi al canale, tantissimi vi siete iscritti, perché vabbè, abbiamo pubblicato un sacco di shorts fatti da Giacomo, Jack, De Tommaso, detto anche il Goat, che ha fatto un sacco di numeri, un sacco di contenuti bellissimi. Vi consiglio di andare a vederli. Stiamo crescendo, sono molto contento. Dobbiamo arrivare a queste 100k, questo numero, qui ci arriva il play button e possiamo aggiornare il nostro sponso. Tu ce l'hai? No, 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 facciamolo no. 2.000. Ci vuole. Per 30.000. E a parte iscrivervi, vi invito, come sempre, anche a lasciare un commento, perché iniziamo ogni puntata, come sapete, leggendo i commenti della scorsa, cosa che andrò a fare in questo momento. E prima di leggere i commenti, voglio leggere il commento, ovvero di scap9373, anche chiamato Checco, che è colui che nella puntata... Il suo nickname... Bellissimo, bellissimo. Si può dire, no? È vero. Checco, Checco. Non è una parolaccia. Non arrivo. Abbiamo anche qua nome d'arte. Con la K, 3K, quindi vabbè. Quindi bravo Checco. Non la scorsa puntata, ma quella ancora prima aveva pronosticato l'Austria come sorpresa. Uh, mazza che... Bravo, bravo, bravo. Infatti poi è arrivato nello scorso episodio, ha scritto, ve l'avevo detto. Giustamente, giustamente. Avevo Checco. Attifato per ogni partita per l'Austria, che affronterà poi la Turchia, forse nell'ottavo più equilibrato, di fatto, quasi. Sì, sì, sì. Poi ci arriveremo. Tra l'altro Checco... Sai che l'Austria possa andare avanti a Turchia, qua? Eh, adesso ci arriviamo. Checco ogni settimana ci dice, me l'avevo detto, me l'avevo ridetto. Ho un commento assicurato ogni puntata. Tra l'altro c'è questa nuova feature di YouTube, che se vai sul profilo di una persona, ti dice tutti i video in cui ha commentato. Nei migliori attaccanti dicendo che Vlaovic potrebbe essere uno G, uno che segue lui. Quindi stiamo davvero facendo un focus su Checco. Anche su OnlyFant ha commentato di Gudmund, insomma, è arrivato per l'ultimo motivo. Questo è il generale della nostra giornata. Checco, molto presente. Chiediamo a Checco, a questo punto, se conferma la sua ipotesi di un'Austria sorprendente anche dagli ottavi in su. Cioè, per ora ha sorpreso, ok, ma sorprenderà ancora? Dove può arrivare Checco? Semifinale, finale? Oltre, ben oltre anche? Vedremo. Checco, dici la tua. Un paio di commenti al volissimo, perché abbiamo già speso un sacco di tempo in questa intro. Salvo, Spagna campione, Morata capocannoniere, Italia fuori quarti, così, una bella ammazzata. Nicola, ah, Nicola è nostro amico, belli come pochi, un bacio a Nic. Samuele, se lo perdono ancora rigori in finale, Gudule totale, penso si riferisca all'Inghilterra, e io non commento. Giacomo, un commento per Edo. Edo, ti si ama, però se hai capito troppo, chiedaresti l'anima per far vincere Ronaldo. Grazie, 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 grazie. Era abbastanza l'idea. Capito, un pochino, un pochino. Germania campione, altri simulisti, Francia, Portogallo, non succederà per via dei sorteggi, si affronteranno ai quarti. Italia for the win, sono d'accordo con te. Svizzera fuori diretto, Politalia terza, Inghilterra-Serbia, ah, questo è un commento, vende prima della prima partita. Un gol di Vlauvić, nessuno dei due ha segnato, purtroppo. Mi dispiace, chi è lui? The King. King, non più King. La presa, in questo caso no. E l'ultimo commento, Marco di Cesare 3347 dice, dimmi, che non so a chi si riferisca, dimmi che sei inglese senza dirmi che sei inglese. Forse io e te, perché abbiamo detto entrambi... Siccome solo a te. Io non sono inglese assolutamente, anzi... Tommaso inglese. Tommaso inglese, non milanese. No, inglese. Tommaso inglese. Londinese. Adesso ne abbiamo già dette troppe, possiamo cominciare a parlare di pallone. Esatto. E voglio chiedervi quindi come vi sono sembrati questi gironi. Vi sono piaciuti, innanzitutto? Avete sentito un po' la magia del torneo? Mi sono piaciuti, mi aspettavo un po' più di gol. Ok. Perché secondo me siamo stati di manica non larghissima e c'erano squadre che potevano fare molto di più. Vedi l'Inghilterra, vedi la Francia, ma poi ne parleremo perché secondo me nelle delusioni metteremo quasi tutti loro. Però è sempre una competizione che ti trascina. A me piace poi il colore degli stadi che diventano tutti arancioni se c'è l'Olanda, tutti bianchi o rossi quando gioco alla Croazia che noi sembravamo fuori casa l'altro giorno. È bello, a me affascina quella roba lì. Quindi è una competizione che non metto di tanto sotto al mondiale, io ad esempio l'europeo. Cioè è una competizione di tuttissimo rispetto, però da qua in poi io mi aspetto ancora di più. Quindi sono stati già belli i gironi, potevano essere ancora più belli, ma io adesso mi aspetto che esplodano da ottavi, quarti, semifinale, finale. Ebbè erano iniziati col botto, con il 5 gol della Germania e poi sono allenati, poi i due, mi chiamano iniziato a giocare. Samu invece? No, allora, te quante partite hai visto? Eh, non so il conto, però ne ho saltati poche, forse due o tre, non di più. No, no, ma di quello di... Ah, là? All'Inghilterra. Due. Ho visto Spagna-Italia e Olanda-Francia. Hai avuto la possibilità di vederlo dal vivo e l'atmosfera secondo me è qualcosa di eccezionale. Devo dire che comunque anche non andando in Germania, vedendole un po' come la stragrande maggioranza dei tifosi qua in Italia, ti dà l'impressione di vivere qualcosa di grande. Lo vivi secondo me un po' come un sal e scendi, cioè quando gioca l'Italia c'è il picco dell'interesse, le prime partite... Te le guardi tutte. Sì, le prime partite te le vuoi vedere tutte e poi magari cali un po', ma adesso riprende. Cioè adesso dagli ottavi, quarti soprattutto, secondo me sarà un periodo davvero trascinante, molto bello, parlando di gironi, parlando di quello che mi aspettavo, mi aspettavo meno equilibrio e invece sono stati dei gironi estremamente equilibrati. La Francia e l'Inghilterra su tutte non hanno ammazzato il girone, è tutto il contrario. E quindi è qualcosa di molto bello perché gli europei, ti dici, non li metto molto sotto i mondiali, soprattutto perché il dislivello è anche ridotto forse e quindi vediamo dei gironi più belli per certi versi, poi i gol sono meno ma anche perché la difficoltà è maggiore e quindi Germania-Scozia è semplicemente un po' l'eccezione, no? La Spagna è l'unica nazionale che ha vinto tre partite, è una cosa particolare, cioè alla fine la Francia ci si poteva aspettare che vincesse tre partite, l'Inghilterra uguale, invece lo va a vincere soltanto una nazionale che è la Spagna. E l'altro con un trackling sheet. Sì, in uno dei gironi che per tutti era tra i più difficili e complicati, perché con Croazia-Italia-Albania comunque... E poi va nel... Nonostante tutto va nella parte del territorio, è sfigata, cioè... Mamma mia! Terribile, però sì, comunque ha regnato l'equilibrio e per me è una cosa molto bella, perché vuol dire che il livello è alto. È stato bello anche la dinamica del terzo posto, le migliori terze, ha creato delle dinamiche in più, perché come nel mondiale appunto passano le prime due, magari rischi che all'ultima giornata c'è qualche partita che ormai è una squadra già condannata, invece quasi tutte le squadre fino all'ultima giornata se la giocavano per arrivare almeno terze. Sì, che poi pure la Polonia alla fine ha fermato la Francia. Sì, esatto, esatto. Sì, esattamente. No, stavo vedendo il fatto che, per esempio, l'Ucraina è uscita con più punti rispetto alle altre terze. Sì. È uscita con quattro punti l'Ucraina e sono passate alla Slovenia con tre. Con tre. Paradossalmente, perché l'Ucraina era quarta. Però comunque di quello siamo abituati, nei tornei UEFA, comunque vedi anche i gironi di Champions League banalmente. Napoli uscì con dodici punti o qualcosa del genere. Vero, vero, vero. Magari si qualificano squadre con sette, otto punti e altre escono con nove. Questa è la crudeltà. Infatti l'Inghilterra ha vinto il proprio girone con cinque punti, quindi un punto solo in più dell'Ucraina, mentre l'Ucraina, appunto, è uscita da quattro. È arrivata ultima, appunto, se fosse stata nel girone dell'Inghilterra, sarebbe arrivata seconda. Quindi, insomma, dati che fanno... A proposito di equilibrio di gol, ci sono soltanto quattro partite con più di due gol di scarto, perché sono state 3-3 a 0 e la Germania contro la Scozia. Quindi, comunque, le partite sono state tante e sono state solo quattro quelle in cui c'è stato un dislivello di gol maggiore. Quindi, grande equilibrio, grande equilibrio anche nei risultati. Ciò bene. Qual è stata, quindi, la squadra che vi ha sorpreso di più, tra tutte? Allora... La testa, la voglio. Vale dire la Georgia. Assolutamente. Vale dire la Georgia, io mi spendo per la Georgia. Ok. Perché, poi, visto che nei commenti hanno detto che sono portoghese, perché si vedeva che avevo quel qualcosina in più per portare Ronaldo a vincere. Lo sfondo ce l'hai sempre lo stesso? No, l'ho cambiato oggi, non è più lo stesso. Che parastella, quindi? No, neanche Cuara, lo aspetto per ottavi. Se mi passa gli ottavi metto Cuara come schermo. Però mi hanno stupito, perché è una squadra che comunque, fin dall'inizio non gliene è fregato tanto di fare calcoli. Cioè, loro se la sono presa come un'esperienza da vivere. Per la prima volta ci giochiamo una competizione del genere, di questo livello, senza fare calcoli. Perché sono state tutte partite belle quelle della Georgia, da vedere. Sì, sì, è vero, è più divertente. Eh, poi vedi giocatori, lascia stare che Varaschia è l'amica Utazze, che ti fanno quelle prestazioni da stella dell'europeo. Quante volte ci sono giocatori, magari mi ricordo, tra europei mondiali, Golovin. Ce ne sono stati tantissimi e poi spero che non sia una di quelle che si perde una volta fatta la grande competizione, ma posso dare continuità al suo rendimento. Però la Georgia è stata sempre piacevole da vedere, io me la sono guardata super volentieri e adesso è tosta. Adesso è tosta perché hanno la Spagna, però sicuro se la godono. Tra l'altro ti dico due vidi con due stazze sulla Georgia, ovviamente il capocannoniere Mico Atazze, che è nominato, è la prima squadra per palle recuperate, se lo sapevi, e anche per tackles eseguiti, quindi contrasti. E oltre a questo hanno anche forse il miglior portiere del torneo di Siamadona Rumma, Mamar Shedili, il portiere del Valencia, e anche colui che ha effettuato più parate. Sì, quindi primi in tante statistiche. E quindi quelle statistiche possono essere utili contro la Spagna, perché o loro ti mandano completamente al bar, in quello che sono bravi a fare, o se no, se sei più bravo tu a recuperare il pallone e essere lì pronto, poi diventa divertente. Sono statistiche diciamo difensive, quindi comunque riesci a magari riconquistare il possesso e ripartire, a sedere il gol di Quara contro il Portogallo. Trovare una squadra, avrei detto la Georgia, anch'io, un gradino sotto come sorprese metto Svizzera e Austria, Svizzera secondo me perché ci si poteva aspettare un rendimento buono comunque. Metto la Spagna come mia sorpresa preferita, perché la perfezione è una sorpresa, la perfezione della Spagna la considero una sorpresa, perché mi aspettavo la Spagna favorita, la Spagna prima nel girone, ma la Spagna che ne vince 3 su 3 anche contro Italia e Croazia, la Spagna che non subisce neanche un gol, quella per me è una sorpresa eccezionale. E la sfortuna che poi si ritrovi da quella parte del tabellone è per certi versi incredibile e unica, perché solo negli europei in queste competizioni qua possono succedere cose così particolari. In un campionato non vediamo mai la migliore che poi si ritrova in un momento che può essere complicato, come in questo caso il calendario, il tabellone che avrà, ma la Spagna se la può davvero giocare con tutto e può vincere l'europeo anche da quella parte, perché è una squadra che gioca meglio. È una squadra che gioca meglio secondo me in questo momento anche rispetto alla Francia, ovviamente rispetto all'Inghilterra. Se la può giocare da questo punto di vista con la Germania, anche se la Germania ha sofferto tanto con la Svizzera e la Svizzera ci ha fatto capire come mettere in difficoltà la Germania. Mentre invece la Spagna non abbiamo capito bene come mettere in difficoltà, perché quando ha la palla la gestisce come vuole. Quindi vuol dire l'80% della partita. È difficile prenderla, prima dicevi le statistiche difensive della Georgia, vediamo nel senso se ci può riuscire, ma è difficile prendere la palla alla Spagna, noi non ci siamo mai riusciti e quando ce l'hanno lasciata per quei brevi scampoli di partita se la vanno a riprendere fino alla porta avversaria. Ed è un comportamento secondo me eccezionale che rende molto difficile trovare dei modi per arginare questa squadra. Sì, sono d'accordo con te. Zero gol subiti, un dato impressionante, cinque gol fatti, però insomma vanno anche analizzati, no? Perché la prima partita l'hanno messa a dormire subito 3-0 nel primo tempo la Croazia. Contro l'Italia ha finito 1-0, ma sarebbe potuta finire molto di più se non fosse stato per Donnarumma, che ha fatto una partita avarente di miracoli, mentre l'ultima partita con l'Albania ha cambiato 10 su 11, lasciando solo il difensore centrale. È una partita che non serviva per le statistiche, perché sarebbe stata prima comunque, ha vinto anche quella con 1-0. Perché quando tu sei così abituato a fare quel tipo di calcio e avere quell'idea, anche se ne cambi 10, e poi gli stessi 10 funzionano alla stessa maniera. Ovvio cambia a livello tecnico, perché Ferran Torres non è Yamal, le seconde linee della Spagna non sono come le prime adesso, però se hai quell'idea di calcio così chiara e netta, poi vai davvero in autogestione. Sì, poi anche Yamal che è nominato, insomma, sapevamo che si trattasse di un giocatore fortissimo, però insomma il suo esordio è un europeo, anche Nico Williams. Forse come sorpresa più unico Williams, nel senso che Yamal ce lo aspettavamo probabilmente già come la rivelazione annunciata. Anche nella Spagna, in un europeo? Sì, secondo me Yamal ce lo potevamo aspettare dopo la stagione fatta. Williams è sorpreso perché anche nella conferenza stampa pre-partita parla del fatto che è difficile saltare di Lorenzo, nello spogliatoio mi prendono in giro perché dicono che non ce la faccio, e poi fa quello che vuole totalmente, ci manda in bambola. Quindi la Spagna ha tante carte che si può giocare e quindi è a quel livello lì, e sono per fortuna tante da quella parte di tabellone. Esattamente. Andiamo più avanti possibile. Va bene, allora, cosa dite? Diamo un'occhiata ai nostri pronostici? Vai, vai. Cos'abbiamo? Allora, ve le ripropongo insomma per impressione con la grafica che state guardate in questo momento. E allora... Dove? No, non ve lo vedo per i nostri amici a casa. Allora, i primi due li abbiamo presi, infatti il gruppo Whatsapp subito direi, eh lei, due su due li abbiamo presi. Facile, easy, easy, easy. E poi da lì iniziano i problemi. Gruppo C, vabbè, abbiamo azzeccato l'Inghilterra prima ovviamente, però abbiamo dato molta fiducia a Serbia, l'abbiamo messa seconda. È vero. Che ha deluso un'altra volta. Ha deluso, è arrivata ultima. La Danemark invece l'abbiamo leggermente sottovalutata, l'abbiamo messa terza. Abbiamo detto comunque che sarebbe stato un po', insomma, è stata una chiamata un po' dura la nostra, però ce l'abbiamo provata così, insomma, la Danemark è finita seconda e la Solina invece terza. Gruppo D, vabbè, neanche Nostradamus avrebbe predetto l'Austria sopra la Francia e l'Olanda. A parte quello, se sposti l'Austria sopra, tutto il resto è con bacia, quindi non è andata così male. Gruppo E, anche questo, impossibile da prevedere con quattro punti, due punti. Abbiamo fatto schifo. Abbiamo messo la domani ultima, invece. Ci prendiamo l'inizio buono. Però, anche qui, se scali la Romania prima, tutto il resto più o meno con bacia. Ah no, in realtà anche l'Ucraina, insomma, il gruppo E è andato. La Romania l'avevamo data per spacciata noi, completamente. Vabbè, bravi loro. Il gruppo F invece l'abbiamo zaccato tutto a parte, la Georgia che abbiamo messo quarta, e invece è arrivata terza, come abbiamo detto. Però l'abbiamo messa come sorpresa, quindi ci sta che ci abbia sorpreso la Georgia. Esattamente. Ma stavo pensando, ma prima ancora di questa puntata abbiamo fatto anche quella con Luigi Igarlando e Giovanni Barsotti. E lì avevamo detto del fatto della Serbia, che ci aspettavamo come possibile delusione, e anche la Croazia. Era stata inserita la Serbia, perché Fede l'aveva messa ottava, io l'avevo messa nona. Però comunque sia, avevamo detto... Però sì, ci sono stati diversi pareri discordanti. Nessuno l'aveva messa la Georgia. No, stavo cercando un po' di rialzarci, ma... Purtroppo non ho la grafichina pronta, però insomma, per i nostri fan più attenti, tipo Checco, ci potrai dire... Checco sicuro lo sa, quindi scrivilo, Checco, nei commenti, scrivilo. Ci ricordi più te. Va bene ragazzi, allora, prima di passare agli ottavi, voglio farvi un paio di domande. La prima, non facile, voglio che, tra voi due, voglio che create la vostra top 11 dei gironi. È uscita un po' su Twitter una, quindi ce n'è una da... Però voglio sapere la vostra. Vai, allora, io in port... Sempre 4-3-3, io tendenzialmente... D'accordo, te devi scegliere poi, Tommy, devi prendersi la responsabilità. Se siete in disaccordo... Scegli? Scegli te? Dai, in porta premiamo Gigio. Allora, io in porta... O lui, o Mamardaschini, uno dei due. Forse per premiare il miracolo, Giorgia... Premiamo... Per me possiamo premiare Gigio, anche perché non metteremo, secondo me, molti altri italiani nella top 11. Almeno io personalmente ne metterei forse solo uno. Possiamo premiare Gigio, Mamardaschvili, oltre alla difficoltà del nome, ha il primo posto per gol evitati, il primo posto per parati, il terzo per cross affrontati. Secondo me, se lo merita Mamardaschvili. Allora, mettiamo... Mettiamo? Mamardaschini in porta. Gigio secondo? Gigio numero 12 per questa volta. Bene entrambi, però. Allora... Allora, insieme a dei centrali? Sì. Ti dico che io Calafiori lo metto. Calafiori lo metto anch'io, quindi Calafiori lo mettiamo. L'altro centrale... Io stavo pensando di premiare le Normande e la Spagna, perché sono stati perfetti. L'adietro un po' mettere lui... Quindi uno per i tre clean sheet, ok? Ci può stare. È la logica che potrei seguire per la difesa, poi per il resto... Anche Rudiger, per esempio, ha un po' faticato su... Sì, sì. Però la Germania concede, eh? La Germania ti fa calciare, concede. Sto pensando a un altro che dice al posto. Ti dico uno che secondo me è stata un po' una sorpresa. È il Guay dell'Inghilterra. Ok. Tra l'altro è il primo per palle recuperate. L'Inghilterra ha poi preso solo un gol, se non sbaglio. Esattamente. In realtà non hanno creato così tanto le avversarie dell'Inghilterra. Però comunque... Dico sorpresa perché non è mai stato parte di citolare fino adesso. Ma guarda, è veramente infortunato. Che dici? Li diamo retta? Non so se sta nel top 11, secondo me, però si metta almeno un posto in panchina, come sorpresa. Una menzione. Però l'Enormar va premiato. Mettiamo l'Enormar. Io un centraio a Spagna lo metterei. A sinistra metterei Cucureia per forza. Cucureia si ha sorpreso. Perché anche lui veramente ha sorpreso. Più forse da un punto di vista difensivo che offensivo. Soprattutto difensivo. Sì, sì. A noi ci ha sorpreso, diciamo, perché io da quella parte mi aspettavo anche Grimald, dire la verità. E invece, è vero, è vero. L'utilità di Cucureia ha vinto. Quindi sì, ci può stare. Io una mia ipotetica formazione effettivamente l'avrei quasi messa senza esterne di difesa. Perché oltre a Cucureia c'è Kimi che puoi sempre mettere, ma lui può fare tutto. Lo metti perché è Kimi. Sì, lo metti perché è Kimi. Ha creato, vedevo anche dal punto di vista delle statistiche, che ha creato diverse occasioni. Sono 13 occasioni da tiro create. Il terzo tra i difensori. Però sono numeri da Kimi. Non è che ha fatto un esploat durante l'europeo. Per me si può mettere Kimi, se mettiamo quattro difensori non mi viene in mente. Un altro che dice, deve starci. Terzino destro. Potete fare un cambio modulo tra premiamo un centrocampista in più? Sì, io sinceramente lo farei. Facciamo Cucureia terzo di sinistra, Calafiori centrale, Lenormand mezzo destro. Non so quanto funzionerebbe in realtà, ma le top 11 non sono fatte per queste. A centrocampo, chi vi viene in mente per primo? A me è piaciuto molto Fabian Ruiz. Perché non me l'aspettavo di questo impatto nella Spagna. Perché comunque va a sostituire Gavi, perché non è presente a questo europeo. Tu puoi intendere Fabian Ruiz come un giocatore monopasso, ma poi in realtà ti ha fatto vedere di essere credibile all'interno di quel contesto. A me poi dal vivo ha stupito veramente tanto, perché la palla non gliela toglie, è sempre pulito. Quindi io Fabian Ruiz ce lo metterei. Vi chiedo se l'altro può farlo Lobotka, invece. Sì, io avevo un altro nome in mente. Tony Cross, ragazzi. Ah, lo metteresti. Allora, qui c'è da scegliere se si va un po' più sulla possibile sorpresa o sui top. Allora, innanzitutto non deve essere funzionale questa formazione. No, 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 anzi può uscire anche come terza, quarta, anzi più terza nel giro. No, su Fabian Ruiz ci sono d'accordo, sull'altro nome, sull'altro tassello si dipende da che cosa vogliamo mettere. Io per esempio si può menzionare ancora De Bruy, nonostante un belgio non perfetto. Sì, è vero. E poi Lukaku non ha sempre sfruttato le imbeccate. Poi sull'attacco ci arriviamo. l'altro secondo me è Shaka perché da un punto di vista forse più difensivo che con la palla ma è il cervello della Svizzera e permette a questa squadra di essere solida e organizzata potremmo menzionare ovviamente Barella che secondo me si può sempre inserire Soboslai che ha fatto comunque sia bene in un'Ungheria che è uscita se ne dobbiamo scegliere quattro che non è funzionale abbiamo detto io metto Fabian Ruiz metto Cross metto comunque De Bruyne probabilmente io metto il mio Shaka rispetto in questo caso Musiala lo intendiamo come centrocampista io l'ho inteso un po' più avanti zona tre quarti l'ho messo più avanti Musiala però io ho già in testa il mio tridente quindi Musiala me lo voglio spendere Musiala esterno di centrocampo mettiamo Musiala centrocampo sono tra dietro Musiala la formazione non funzionerebbe mai facciamo un 3-3-1-3 Bielc sta bellissima creiamola così e quella è la tridente allora io ho i due della Spagna davanti ok Yamale e Nico Williams e Micautazze prima un po' Micautazze non può non esserci non può la Spagna ne scegliamo uno solo oppure ah vai ok tra i due forse Nico si forse ha sorpreso un po' di più perché come dicevi tu Samu prima io dell'attacco mi voglio tirar fuori perché ho due nomi che io inserirei ma che hanno zero gol ok quindi è impossibile inserirli giustamente sono Ronaldo e Lukaku non sono d'accordo nessuno di due allora sono spiega spiega hanno avuto entrambi un sacco di occasioni ma non occasioni del tipo che si sono mangiati ma che i portieri hanno avuto delle parate eccezionali su Ronaldo soprattutto si è ritrovato davanti alla porta aveva segnato che ha colpito uno sdraiato per terra ha avuto un paio di occasioni eccezionali Ronaldo l'ho visto molto partecipe con la squadra nel senso che si è davvero sacrificato per la squadra con e senza palla con la palla anche il tocco di tacco mi sembra per Vitina sono diverse le giocate per mettere in porta anche i compagni ragazzi Lukaku da un punto di vista anche della comunicazione italiana è un argomento molto delicato perché passa dall'Inter e quindi non è molto spesso ben visto in questo momento ma Lukaku ha segnato zero gol ok ma lei l'hanno annullati due per un ginocchio e uno per un'altra roba non ho capito niente cosa poi è stato il primo per ah il tocco di mano di bravo bravo il tocco di mano adesso non mi ricordo il giocatore che entra oltre i due gol annullati Open D'A la mano di Open D'A nonostante cioè oltre i gol annullati lui è il primo per expected got quindi che cosa vuol dire semplicemente quanto sei aspettato di essere il migliore di tutti i tempi no che cosa vuol dire expected got sono praticamente quando ti tiri in porta c'entri la porta c'è il portiere dall'altra parte che può parare ok lui è stato il migliore per precisione dei tiri effettuati di conseguenza il giocatore contro cui i portieri sono stati più fenomeni diciamola così quindi lui comunque ha avuto tante occasioni io li metto non li ho messi nella top 11 però li volevo menzionare quindi mi sono tirato fuori dall'attacco perché io loro due li menziono perché se avessero avuto meno sfortuna li avremmo inseriti ha fatto anche la panchina abbiamo fatto quindi abbiamo fatto anche la panchina quindi alla fine confermato ma io la doppio Spagna lo metterei cioè sono stati io e Yamal Williams voluminare anche Fulcrug bravo Fulcrug è un altro che puoi mettere perché è stato decisivo contro la Svizzera allora dai facciamo così ne togliamo uno della Spagna ok ne togliamo io tolgo Yamal perché avrà tempo di essere nelle prossime 50 anni di top 11 di calcio che giocherà e facciamo mi cautazzo un po' più esterno e Fulcrug prima punta ok mi piace ci fai un recap quindi abbiamo detto Mamardashvili Cucureia Calafiori Lenormand da destra a sinistra Musiala Toni Kroos Fabian Ruiz e Shaka e davanti Nico Williams Fulcrug e Mika Utazze questa dove usciamo siamo a terzo posto però simpatica come formazione questa è la nostra formazione top dei gironi con l'allenatore Nick Cariglia questo 11 solo lui può fare un miracolo ovvio in bocca al lupo va bene ragazzi abbiamo parlato abbastanza ai gironi io direi di andare a un'occhiata agli ottavi come avete detto abbastanza squilibrati perché la parte sinistra ovviamente ci sono squadre più forti la parte destra sulla carta un pochino più forte per andare a leggerli facciamo i nostri pronostici subito dai sì subito allora uno alla volta il primo Spagna-Georgia spettiamo una sorpresa estrema secondo me finisce qua la favola della Georgia è anche giusto però secondo me può essere una partita divertente spero che la Georgia la affronti come questa partita può essere la 4-0 per la Spagna perché la Georgia concede però se se la giochi in questo oppure la Georgia può fare il Marocco del mondiale hai capito? certo è molto difficile però chissà andare a individuare il Marocco del mondiale con quell'intensità con sì beh abbiamo detto con tutte quelle statistiche difensive può essere che la stiamo veramente dicendo fantasie sì no secondo me la Spagna è troppo forte anche per questa Georgia e quindi sì Spagna va bene secondo ottavo è la Germania contro la Danimarca Germania Germania perché sono anche le due squadre che ho visto meglio Spagna e Germania sarebbe giusto ed è giusto che si incontrino ok è vero la seconda e la terza scusate che cosa hai ridere ho fatto ridere siamo cambiati in un gioco di sguardi ho perso grazie per aver fatto perdere il tempo che ho perso la grafica Portogallo Slovenia beh Portogallo ora scusate siamo un po' monodici cosa dobbiamo inventare la Slovenia quarti no non me la sento non te la senti? no non ci sono motivi anche il Portogallo comunque sì l'ho visto bene e ha tantissima qualità davanti e ha creato è la squadra che ha creato più gol attesi quindi comunque si ha più occasioni da gol e lì si ritorna anche alle occasioni che ha avuto Ronaldo perciò sì tranquillamente può andare avanti l'ultimo ottavo di finale da questa parte nel lato sinistro è Francia Belgio questa secondo me è la più bella senza dubbio sì però io prendo comunque la Francia perché sono delle idee che la Francia il girone te lo fa in ciabatte perché sai di essere troppo forte sono rimasti scottati nell'ultimo europeo che hanno abbandonato troppo presto la competizione tra l'altro con la Svizzera e io dico Francia perché poi è anche una partita giusta con il Belgio perché ti alza il livello anche emozionale della gara dici comunque questi ragazzi sono una squadra che ha materiale quindi secondo me l'approcceranno nel modo giusto poi io se non lo fanno vuol dire che proprio di non andare avanti non riescono ma secondo me sono d'accordo che l'approcceranno in maniera diversa la Francia dicevamo prima ha segnato due gol uno sul rigore e un autogol nonostante ciò è la quinta squadra nei gironi per gol attesi escluso i rigori quando parliamo di gol attesi ovviamente parliamo delle occasioni avute la quinta squadra la quinta squadra che escludono di conseguenza l'autogol ed escludono il rigore quindi praticamente come se non è mai segnato partendo dal presupposto che non hanno segnato sono comunque quinti per gol attesi perciò bene nel senso vuol dire che è creato o comunque che è sprecato Griezmann è il giocatore che ha sprecato più gol attesi nella fase a gironi quindi vuol dire che ha avuto occasioni l'Olanda si trova due volte a calciare da due metri dalla porta è anche un po' come dire viziato dal fatto che è un pallone in cui Griezmann fosse alto 10 cm in più in scivolata ci arriva però comunque hanno avuto occasioni è sintomo di una squadra che comunque può creare perciò diversi è in salute e poi sono stati senza Mbappé per una partita e ce l'hanno forse a mezzo servizio non sappiamo quanto male ha al naso e nonostante questa assenza di Mbappé lui è proprio il secondo calciatore per tiri in porta dopo Lukaku con 6 torniamo agli ottavi andiamo quindi dalla parte destra del tabellone è più complicato come la vedete questa Romania Cursara che insomma ha vinto la prima partita Romania che noi avevamo dato per spacciata esattamente però sapete che a me l'Olanda vista dal vivo è piaciuta in una partita bruttissima con la Francia però l'ho vista una squadra con un senso vedere Van Dijk dal vivo ragazzi è spesso largo come questo tavolo mamma mia però se poi fai caso che gli mancano The Young Cup Miners The Run sono forti Xavi Simons leader tecnico sono molto forti pensate abbiamo incontrato abbiamo parlato con qualche tifoso olandese fuori allo stadio e abbiamo chiesto ma cosa ne pensi di Zirzee lui fa non penso nulla perché non guardo il campionato italiano lo conosco il campionato italiano per l'Atalanta perché c'è The Run però il primo nome che hanno fatto è stato The Run questa domanda l'hai fatta a Coleman proprio era assomigliava a Coleman tra l'altro deve essere lui la vedo l'Anda avanti secondo me passa la Romania non ha creato tantissime occasioni è riuscita comunque sia a vincere anche con un 3-0 però la vedo un po' come veramente l'esploit nel senso picco che ha avuto durante i gironi ma non mi sembra una nazionale che può dare continuità ha fatto due gol Razvan Marin nella Romania bello sono contento e due assist man la prima sinceramente non me l'aspettavo automaticamente vince capo a Canonia insieme Musiala Kakpo Fulkrug e Schrantz della Sovacchia e poi c'è il King 3 il King 3 il prossimo ottavo lo avete già nominato Austria Turchia eh questa è bella questa è bella questa è bella io ti dico la Turchia perché mi piacerebbe vedere Guler e Ildiz e Cialanoglu più avanti nella competizione però è una partita che mi guardo veramente volentieri se devo dirti non riesco a fare un pronostico però bisogna fare è difficile anche io mi trovo difficoltà l'Austria mi sembra una scuola un po' più solida forse anche della Turchia però bisogna capire che cosa può pagare di più in uno scontro secco così cioè la qualità del Guler dell'Ildiz del Cialanoglu oppure magari la fase difensiva come che sia l'attenzione l'energia che può metterci l'Austria ti intendo premiare la Turchia anche io perché secondo me davvero Guler miglior gol forse della fase di Girono lui può fare gol in ogni modo cioè ci sono delle statistiche su Guler che ho fatto ultimamente sono impressionanti lui non ha mai ricevuto una parata fino a quel tiro cioè se prende la porta è gol se decide di prendere la porta segna perché tra Real Madrid e Turchia quest'anno non hanno mai ricevuto una parata sono quei giocatori che possono sbloccarti una partita cioè se la Turchia riesce a mantenere il risultato in bilico comunque sia sull'appareggio ha la possibilità secondo me di sbloccarla in modi anche particolari più complicati ebbe anche lo stesso gol di Cialanoglu è bellissimo all'arlentatore c'è un angolo incredibile quindi entrambi io però dico un pochettino più Austria se devo farti un po' nonostri spero nella Turchia ma secondo me sarà l'Austria stesso pensiero secondo me in un torneo del genere l'esperienza la solidità dell'Austria farà la differenza Inghilterra Slovacchia England a giudicare dal girone Tommy londinese su alla questa affermazione l'unico con la bandiera dell'Inghilterra appesa al terrazzo c'è un mio vicino di casa che ha veramente la bandiera non so se la bandiera di Genova non so perché è venuto oppure la bandiera d'Inghilterra uguale ovviamente sapevi che questo momento trivia sapevi che l'Inghilterra ha preso la bandiera da Genova davvero pagava l'affitto per la bandiera e poi a un certo punto ha svesso però se la sono tenuta e quindi il sindaco Bucci un giorno ironicamente ha presentato il conto alla regina di Granterra a gare a gare un evento genovese di promozione del turismo a Londra allora lui ironicamente ha presentato il conto alla regina che sono milioni di euro perché è passato non doveva scherzare St. George è la stessa i genovesi hanno messo un puntino lì Seneises al bocca non è stato fondato dagli inglesi cricket cricket and football in Italia nessuno sa cosa del cricket io lo so perché c'è di cricket si che si sa bellissimo sport le partite i cricket durano una settimana quanto durano esatto lo sapevo una settimana non è letterale tornano proprio tornano a giocare dormono in campo nelle posizioni quando tocca per esempio a una squadra battere possono battere per otto ore e poi il giorno dopo batte l'altra c'è una roba del genere vabbè questa parentesi cricket vicino a casa mia a Prato giocavano in questo barco qua vicino e giocavano tutti i pomeriggi anche quando facevano un caldo terribile vabbè si diverte aneddoti sul cricket il cricket sta al baseball un po' come il rugby sta al football americano ah ok finiamo nei settori di finali con Svizzera Italia aspetta no la parola l'Inghilterra di quanto abbia giocato male l'Inghilterra Slovacchia è stata brutta da vedere e il fatto che la mettiamo ovviamente avanti rispetto alla Slovacchia ragazzi male 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 molto male all'inizio europeo l'ho messa come la favorita perché secondo me ha diciamo il parco giocatori più importante insieme alla quante posizioni ha perso nella tua testa l'Inghilterra beh ha perso perché secondo me se giochi così devi perdere devi perdere rispetto alla Spagna devi perdere rispetto alla Germania e al momento era già a livello Francia ovviamente è sotto quindi probabilmente la metto al quarto posto e la metto forse un pelino ancora sopra al Portogallo perché la ritengo più solida anche da un punto di vista difensivo però male male era la terza peggio squadra per gol attesi in tutti i due gironi la terza peggio squadra è forte come è dato quindi male l'Inghilterra secondo me non vedremo un upgrade da un punto di vista del gioco l'Inghilterra secondo me è questa l'Inghilterra secondo me è questa magari possiamo vedere qualche giocata individuale superiore sicuramente non ci piove però andrà molto di più sulle giocate individuali dei campioni che ha perché Kane che mi viene a raccogliere palla nella mia tre quarti e lo fa divinamente lui l'ha sempre fatto l'ha sempre fatto benissimo però poi in squadre che dopo di là almeno si arrivano e gli fanno avere qualcosina così è complicato per Kane per tutti per Bellingham sai che è forse l'unico che può veramente far saltare il banco col Palmer perché perché lui è stato abituato quest'anno in una squadra che non aveva senso come il Chelsea che è stato di quest'anno fai comunque 20 più gol in una squadra che non ha assolutamente un senso e quindi adesso se l'Inghilterra non trova la quadra e i riferimenti in campo forse lui è l'unico che è abituato a surfare nel caos meglio di tutti gli altri perché Foden è un po' più inserito in dei paletti seppur magari non altissimi schematici che ti dà Guardiola così come lui tanti altri giocatori poi tra l'altro Foden credo abbia adesso lasciato il ritiro per problemi di famiglia esatto però forse col Palmer era un problema è nato il terzo figlio ah era nato il figliolino ok ok l'ho visto però in famiglia in realtà non è un problema motivi familiari un happy problem un bellissimo problema però Palmer secondo me può essere l'unica via in questo momento sono d'accordo con te e aggiungo un altro nome che secondo me può fare la differenza in Inghilterra e l'ha fatta negli ultimi 20 minuti della scorsa partita che è Mainu è vero anche lui ha giocato pochissimo perché c'è questo tema nell'Inghilterra l'Inghilterra non giocherà mai bene con Savkett e questo lo dice la storia negli ultimi 8 anni non ha mai giocato bene però secondo me Palmer lo sto per dire anch'io e Mainu possono dare più equilibrio perché dico Mainu? perché le prime due partite ha giocato Trent Alexander-Arnold come centrocampista e l'abbiamo anche detto noi nella scorsa puntata che era un po' incognita e in effetti non è andata molto bene perché insomma noi lo vedevamo bene anche da un punto di vista un po' più offensivo rispetto a quello che ha fatto poi che ha fatto l'Inghilterra chi sa giocare terzino giocare centrocampista è molto diverso il centrocampista a volte ti ritrovi rinchiuso nella gabbia avversaria non hai la fascia su cui correre e cavalcare insomma queste due partite infatti non ha entusiasmato tant'è che la terza partita Savkett ha provato a mettere un vero centrocampista al centrocampo ovvero Connor Gallagher che però anche lui non è esattamente di ruolo perché è un centrocampista diverso nel Chelsea a parte che non è titolarissimo e comunque non fa quel ruolo lì negli ultimi 20 minuti invece ha messo Mainou che è una delle sorprese del Manchester United e dell'Inghilterra un giocatore molto giovane che è esattamente ah Mainou di 21 sicuramente no no giovanissimo Mainou giovanissimo e è stato l'unico a creare un'azione 2005 e negli ultimi 10-15 minuti è stato l'unico forse a creare un'azione perché gli era stata una palla di prima la giocata di tacco perché anche per la passata a Copalmer che poi ha tirato sul portiere quindi insomma ho già visto una differenza in quei 10 minuti io seguo tanti giornalisti inglesi e ho letto anche proprio tweet e articoli che dicevano questa cosa potrebbe essere erano proprio i due nomi che chiedevano cioè metteteli dentro Palmer e Mainou Gallagher un altro che non era super ben visto e chiedevano quello chiedevano quello se questi due nomi dovessero partire titolari per la prossima partita non dico che l'Inghilterra farebbe uno switch completo perché comunque con Savkett un primo posto è questa però secondo me potrebbe essere un miglioramento che insomma sarebbe importante detto questo detto questo comunque male però vediamo vediamo il livello è altissimo quindi l'Inghilterra ovviamente avanti e adesso Svizzera-Italia male più di noi? oddio c'è l'ultima Svizzera-Italia siamo al primo a giocare in senso ce l'hai lasciata l'ultima tabellone quello allora più c'è da distinguere perché troppe emozioni potrebbero entrare l'emozione di oddio l'Italia portiamola avanti oppure oddio l'Italia nel senso abbassiamo le aspettative però da un punto di vista sincero mi viene a dire il più sincero possibile questa è insieme a Francia-Belgio e Austria-Turchia la partita che vedo più equilibrata perché la Svizzera l'ho vista molto bene l'Italia l'ho vista molto male la Svizzera l'ho vista bene contro la Germania perché è una nazionale che è riuscita a mettere in difficoltà una nazionale che sembrava quasi impossibile da mettere in difficoltà dopo le prime partite perché è riuscita ad aggredirla alta ma nonostante ciò a compattarsi dietro quando serviva e quindi riesci ad essere riesci proprio a cambiare il tuo atteggiamento in base al momento della partita e soprattutto a nascondere di fatto tra le maglie della tua nazionale giocatori come Pirzi e Musiala che quasi non si vedono in quella partita quindi diciamo che da un punto di vista difensivo è una nazionale che può secondo me impedire all'Italia di creare già l'Italia ha creato pochissimo e quindi la vedo dire che vedo avanti la Svizzera forse non è vero perché come dicevo prima noi abbiamo più qualità e magari veramente una giocata che sia nei 90 minuti o anche dopo ci può permettere di passare il turno quindi se devo scegliere una dico comunque l'Italia ma sarà complicatissima sarà davvero complicata tu come la vedi eh no anche io la vedo complicata perché loro sono sono credibili come squadra sono solidi sono esperti perché hanno giocatori super esperti e noi invece siamo in un processo un po' di ancora ci dobbiamo conoscere ci stiamo conoscendo perché il percorso non parte da tantissimo tempo fa e secondo me sarà difficile sarà difficile perché io non so come approcceranno i ragazzi questa partita qua cioè io non so se il gol di Zaccagni è stata più una liberazione che poi ti fa arrivare lì dicendo ok noi ci siamo meritati di essere qui al 98esimo minuto perché poi abbiamo scoperto che senza quel gol sarebbe finita l'avventura e non so a livello psicologico tu come entri in campo se entri con la sensazione di aver toccato veramente il fondo essere stato al limite per andare a casa oppure di essere lì e quindi me lo tengo bello stretto però con la con la consapevolezza di essere secondo me se fai il gioco delle figurine sei più forte della Svizzera però abbiamo capito che Francia e Inghilterra ti hanno insegnato che probabilmente non conta più il gioco delle figurine in questo ambito difficile secondo me anche oltre i 90 eh sì anche secondo me oltre i 90 ma siccome ti libera un po' perché hai già assaggiato il fatto di essere quasi fuori cioè l'hai già vissuto era più del novantesimo ma probabilmente non lo pensavi nemmeno eri non dico super tranquillo perché poi è dovuto succedere ciò che non ti aspettavi veramente per non lo so io se ti devo dire non mi spingerei oltre il 55 per l'Italia per cento ok penso che siamo tutti tra abbastanza d'accordo vi chiedo che formazione schierereste partendo da te vai Edo te la lascio io non sono fan della difesa 3 perché poi è a 5 e per me è tutto ciò che è a 5 guarda tra l'altro vedi ho vietato giocare a pallone con la difesa a 5 ogni puntata c'era un nuovo sfondo di Edo ho vietato che tra l'altro era un cartello sotto casa sua non c'era non c'era con la difesa a 5 ah ok mancherà Calafiori quindi mi aspetto buongiorno e con Bassoni che va a fare effettivamente quello che sta a fare meglio però secondo me riproporrà questo 3 3 e poi gli altri quindi dietro 3 che diventa 5 non sarà tanto distante secondo me dalla formazione della Croazia davanti cosa faresti? ti sentiresti? io non riesco a capire il sentiment di Spalletti verso Scamacca non riesco a capire se per lui è un intoccabile o è uno che alla prima occasione buona lo può fare fuori tenendolo in panchina non lo so è anche Scamacca che si porta un po' tutti questi pensieri a dietro lo so mi viene veramente difficile però l'unica cosa è che vorrei vedere Chiesa io Chiesa lo metterei l'altro giorno con la Croazia eravamo talmente tanto piatti che io mi sono accorto dell'assenza di Chiesa quando è entrato era 60 60 e un po' indipendentemente dagli uomini vorrei vedere una squadra con un approccio super diverso super diverso io una formazione me la sono scritta ce l'ho dai sentiamo la formazione che metterei è sicuramente Donnarumma cambierei di Lorenzo perché non l'ho proprio visto bene per Bellanova sinceramente avendo difesa 4 per Darmian ah ok quindi fai Darmian da un punto di vista difensivo di Lorenzo mi è sembrato davvero non nel suo momento ecco senza neanche pensare ad offendere quasi non l'ho visto bene dall'altra parte di Marco nel mezzo bastoni io sinceramente metto Mancini perché secondo me più di Buongiorno perché secondo me anche in fase di impostazione che è una componente importantissima per l'Italia Mancini non è un top da questo punto di vista però lo vedo leggermente meglio di Buongiorno ma sono abbastanza intercambiabili preferisco leggermente Mancini questo tipo di difesa ti permette di fare il giochino secondo me un po' poi di rimetterti a tre è vero che lo puoi fare comunque anche Buongiorno con Chiesa che metto alto a destra che se c'è bisogno può scendere un po' a dare una mano cosa che personalmente non vorrei vedere però può capitare tu fai 4-3-3 faccio 4-3-3 con Fagioli al posto di Giorginio ok vero anche io Fagioli metterei l'unica incognita di Fagioli lo metti al posto di Giorginio lo metti al posto di Giorginio con Barella Pellegrini Barra Barella io vorrei più Giorginio Fagioli io Giorginio lo tengo in prima costruzione con Barella e Fagioli come mezze anche io secondo me Fagioli può fare il lavoro di Giorginio la mia perplessità maggiore è sulla condizione fisica ok è un giocatore che al 60esimo lo devi togliere Fagioli dice sì comunque nel senso sono 60 minuti lo gioca Giorginio come primo cambio ma tutta la partita secondo me non può farla un po' per il suo storico di questa stagione è complicato però lo metterei Chiesa Scamacca-Zaccani ovviamente Zaccani non puoi secondo me lasciarlo fuori in questo momento perché quel gol lì ti può dare tanto da un punto di vista e secondo me Zaccani è un giocatore che ha bisogno di sbloccarsi emotivamente nel senso che ha bisogno di fiducia come Scamacca come tanti attaccanti devono avere bisogno cioè devono avere fiducia da parte dell'allenatore che gli schiera che magari la prima difficoltà non li toglie poi di esterni d'attacco non abbiamo portati tanti a dire la verità abbiamo portato più difensori quindi Zaccani è uno insieme al Sharaw le uniche possibilità che hai da quella parte in alto sì sono d'accordo con te tra l'altro il momentum famoso chiamato momentum in un torneo così corto lo devi sfruttare infatti io parlavo con i miei amici durante la partita se Retechi segna va schierato la prossima c'è una questione sulla Svizzera secondo me importante non hanno secondo me questa volta il privilegio di essere sfavoriti perché ci hanno fatto fuori dai mondiali perché le dichiarazioni che stanno portando avanti sono di una nazionale l'ultima di Freud che si sentono favoriti loro capito quando in realtà forse sanno di essere col momentum favorevole secondo me dentro di sé si sentono quasi alla pari o comunque sia quasi avanti per quello che abbiamo visto nei gironi e anche per il passato nelle qualificazioni mondiali questo è un grande svantaggio secondo me perché siamo nell'ambito soltanto della testa neanche la parte più lontana rispetto ai piedi quindi siamo in un altro ambito che in realtà è la più vicina però sono soltanto da un punto di vista mentale e psicologico se sai di essere sfavorita vai con un altro tipo di mentalità più leggera magari più spensilata e provi anche alcune determinate cose in campo che possono portarti bene secondo me la Svizzera questo vantaggio non ce l'ha stavolta perciò paradossalmente noi che ci sentivamo già fuori possiamo essere forse anche un po' più liberi rispetto ai gironi spero di vedere una nazionale italiana più libera mentalmente che è stato il nostro problema va bene però la formazione mi piace anche a me con Di Marco a sinistra sì alla fine siamo abbastanza d'accordo magari tu ieri sei Giorginio noi no però a parte quello con Buongiorno e Mancini l'altro dubbio sono due ballottaggi ci teniamo due ballottaggi io ho tre Mancini anche per la leadership perché secondo me è qualcosa che può servire in questa nazionale poi siamo lì insomma come livello forse come difensore forse preferisco Buongiorno come marcatore pesa 4 Mancini è un po' più di esperienza alternato di più tra 3 e 4 e come impostazione con la palla vedo leggermente meglio Mancini ma ce le teniamo un po' di ballottaggi scegliamo sabato chiamiamo spalletti diciamo la nostra guarda noi gli mandiamo il link della puntata direttamente al minuto 50 e un po' tra l'altro siamo al 50esimo quindi questo cerchiamo di accelerare lungo questi pronostici fateci sapere però nei commenti della vostra formazione schierereste come risolvereste questi ballottaggi allora quindi velocemente Svizzero-Italia Italia Italia assolutamente bravi così andiamo avanti quindi con i quarti semi finale però abbastanza rapidi insomma una parola Spagna-Germania Spagna dai anch'io portugal-Francia Francia perché la Francia è in crescendo Francia tra l'altro sono sbagliato portugalo l'altra volta però non c'era la Francia non c'era la Francia non avrebbe dovuto prendere la Francia scusa nei miei piani non c'era la Francia ragazzi Olanda Austria Olanda Austria no è fermata questa cosa di Checco basta Checco ci ha influenzato l'Austria la solleva io voto Austria fate voi no vabbè se voi siete d'accordo no no vado con l'Olanda c'è la cosa della sorpresa però è difficile intercettare la sorpresa Olanda vabbè poi se ti ritrovi la Romania è semifinale poi no io dico Olanda Inghilterra Italia vabbè qua è difficile superiamo lo scoglio Svizzera è lo scoglio più grande la Svizzera la Svizzera è lo scoglio più grande no io dico Italia l'Italia-Inghilterra è difficilissima la partita io secondo me l'Inghilterra mi sono fatto prendere da l'entusiasmo semifinali ma che dici scusi dovete dire l'Inghilterra è il tuo derby è la tua partita l'Inghilterra è l'Italia sì forza Italia no Italia dici Italia calaburosamente di parte dico Italia ma però sono d'accordo che a parte gli scherzi l'abbiamo già battuta in casa loro in casa loro esattamente dopo che sono andati in vantaggio cioè le hai già vissute le cose peggiori non so posso vedere un'Italia vincente ancora quanto la vorrei vedere che la partita sarebbe molto bello e comunque vorrei ricordare ai miei amici inglesi che non stanno guardando che se dovessimo perdere comunque noi abbiamo vinto l'europeo in casa vostra ricordiamoci semifinali allora Spagna e Germania ma nel tuo Spagna giusto quindi Spagna e Francia io porto avanti la Spagna davvero bello la porto avanti anch'io la porto avanti anch'io e se me è la partita più bella sarebbe la partita più bella da vedere in Spagna e Francia 4-3 una roba così no non per forza tanti gol ma la partita più bella non è facile fare i gol alla Spagna e dall'altra parte fanno tutto clean sheet fan esattamente mamma mia dall'altra parte quindi Austria-Italia giusto? no 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 Olanda Olanda Italia no raga abbiamo portato un disastro quando faremo la reaction a questa se mai la faremo sarà una marea di insulti Italia in finale nel mio tabellone io l'ho già fatta fuori nella mia idea l'ho già fatta fuori oramai però io ho detto l'Inghilterra l'Italia quindi basta così finale di Spagna-Italia il rimatch del giro Spagna Spagna vabbè sì Spagna però sarebbe bello rincontrarli in finale dopo che ti hanno fatto partita peggiore rispetto a quella magari vincere magari l'autogol sono fan loro vediamo la nostra vincitrice aveva messo Portogallo nello scorso pronostico questa volta alla Spagna e ovviamente fateci sapere è stata una Francia di troppo esattamente fateci sapere ebbè a volte questi incastri no che non insomma fa cambiare le è vero è vero ricominci sabato alle 18 io raga io ho sbagliato tutto non hai fatto la formazione mi sono completamente dimenticato di sta cosa anzi metà l'avevo preso prima io ho preso il treno di che? per andare a Prato per andare tornare a Prato ah e sei in treno alle 18 vabbè non lo prendi eh non so che fare scusa Pietrella non è la partita in teoria la partita è finita però i tempi regolamentari cambiano 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 dici cambiano va bene ragazzi vi chiedo le ultime cose così facciamo le ultime clip per Instagram pronostico capocannoniere capocannoniere il prossimo lo dico già anche miglior giovane io pronostico capocannoniere ce l'ho io dico vai dillo 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 Musiala secondo me capocannoniere sarà Musiala perché farà un altro golletto e magari pareggia Micautazze un altro golletto ancora e chiude a 4 l'avrei detto anch'io Musiala eh ora ti ho preso in controviede eh dico Mbappé però perché secondo me ha tutto il tempo per dici se va avanti se supera il badge basta una doppietta sì ha secondo me il tempo per segnare Mbappé è me lo scorre tanto della Francia tengo Musiala MVP torneo togliendo i vostri capocannonieri MVP tu puoi dire Musiala tu puoi dire Mbappé non miglior giovane MVP MVP no in totale MVP 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 il mio sogno è uno però posso c'è tanto cuori nel nome di Calafiori che è stato tra i migliori secondo me del girone dal punto di vista dei difensori sì si è parlato dell'autogol che però l'autogol non c'entra niente si è parlato soprattutto dell'occasione di Manai e va bene però quanto quanta bellezza sta portando però vabbè è soltanto una cosa mia l'MVP magari il miglior giovane dai è un 2002 Calafiori quindi Calafiori il miglior giovane sopra l'Alamal sì no vabbè Yamal vabbè non è che ha una categoria 6 anche lui categoria Yaval ma voglio chiedere quindi MVP miglior giovane miglior giovane dai diciamo Yamal ma secondo me poi faranno così metti che dovesse andare la Spagna veramente tanto avanti poi il miglior giovane lo premiano come miglior giovane più che come miglior giocatore quindi il miglior giovane una volta detto un Bappé che per me però il miglior giocatore deve essere per forza uno che arriva in fondo quindi uno spagnolo quindi Rodri ah Rodri dici eh può essere Rodri Rodri miglior a meno che non ci sia uno un exploat di Mbappé che fa doppietta 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 se mica Autazze ci permette in quanto avanti la Spagna bisogna chiedere a lui prima ci sta Rodri va bene questi quindi erano i nostri pronostici e prima di chiudere voglio fare una domandina al volo un piccolo non un quiz però insomma voglio vedere quanto siete preparati ma il quiz non ce l'ha detto non ci ha preparato c'è una sorpresina allora se non azzeccate neanche una questa parte la tagliamo mi chiedi la formazione titolare della Georgia non la so no assolutamente no ok sull'Italia vi dovete dirmi secondo voi chi sono i tre che hanno completato più passaggi visto che voi siete due statistiche ah no vabbè ce li ho sono Bastoni sicuro i difensori sono Bastoni di sicuro c'è Giorginio c'è Giorginio aspetta perché lei ci ha toccato meno però secondo me Giorginio tocca 30 palloni Bastoni e Di Lorenzo di sicuro anche Di Lorenzo è sicuro sì e l'altro forse è Calafiore sì 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 allora Bastoni e Calafiore sì primo e terzo ah non c'è Di Lorenzo Giorginio e Di Lorenzo sono quarto e quinto quindi c'è un secondo che vi siete persi Donnarumma no no meglio di altri Donnarumma intanto mentre pensate Bastoni Barella esattamente primo Bastoni con 233 percentuali del 94% Barella 221 ebbè anche Calafiore anche Calafiore percentuali oltre il 90% sbaglio Di Lorenzo ero sicuro io eh comunque anche con percentuale sarebbe la stessa classifica in realtà quello con la percentuale migliore è Darmian effettivamente meno 50 ha giocato meno con il 97% però avevo visto probabilmente su Di Lorenzo passaggi tentati mi ha sbagliato di più eh sì stesso giochino top 3 di chi ha creato più occasioni sempre Italia chi ha tirato di più chi ha tirato di più allora tirato di più pensiamo un po' ai tiri io dico il numero 1 mi ha sorpreso ok chi ci può faccio nomi non è la mia classifica allora quando entra con la Spagna Zaccagni è quello che dribbla di più ok però non so se poi no però ha giocato io mi ricordo ok tiri porta e fuori ok cioè quello di Chiesa sono Scamacca Chiesa là davanti Pellegrini che può aver tirato anche se non è un po' meno ehm fondamentalmente loro tre mi vengono in mente Frattesi ha tirato tanto ha tirato la prima soprattutto la prima quindi i tre non senti su me Frattesi Chiesa li metto tutti e due però aspetta io li metto loro poi il terzo che dici te perché Scamacca ha tirato meno poi ha giocato due partite interi poteva anche starci come nome però Scamacca secondo me ha tirato meno c'è Pellegrini ti stuzzica Pellegrini Pellegrini mi stuzzica però no io ci metto Bastoni ah Bastoni di te si ha tirato un sacco di volte Bastoni Frattesi e Chiesa Bastoni quarto insieme a Palafiori con tre la top tre è Pellegrini numero uno era Pellegrini cinque fuori uno in porta Scamacca secondo con quattro perché anche Chiesa parimento anche calciati piazzati Pellegrini è vero ci stava ultimo ultimo top tre palle recuperate palle recuperate il primo recuperate 24 il secondo 23 il terzo 12 sempre difficile sempre difficile questa tipo barellino può essere i centrali alla fine recuperano volte meno rispetto ai centri andare un po' più in mezzo al campo si però Bastoni barra Calafiori per recuperare secondo me ci vanno messi insieme a barella esterni che dici di Lorenzo direi di Lorenzo di Lorenzo però sono stati più dribbling che abbiamo visto e dall'altra parte anche di Marco non è che fosse un grande recuperatore di palloni proviamo Bastoni Calafiori vogliamo dire pure l'ordine a me lo sbagliamo cento per cento ordine primo Calafiori secondo prima di Bastoni secondo barella terzo bastone mi fido di Lorenzo che avete nominato è quarto con otto recuperate ma è quello che ha effettuato Pittacco i primi tre avete zecchati quasi Calafiori primo Bastoni secondo ah era Bastoni barella mi è piaciuto questo quiz stava abbastanza bene vuol dire che abbiamo visto le partite e le abbiamo capite a parte i tiri Pellegrini me lo aspettavo dai che c'è va bene ragazzi si aggiorneranno si aggiorneranno rifaremo questo quiz però facciamo mi dici prima le risposte eh no così non si può va bene ragazzi dai abbiamo parlato un'oretta di gironi ottavi previsioni quiz abbiamo gufato male di nuovo questa volta peggio la gufata giusta però 50 e 50 si perché l'abbiamo portata avanti ma abbiamo perso esatto abbiamo dato falsa speranza si si ci sta ci sta mi raccomando vi invito nuovamente a iscrivervi al nostro canale a lasciare un commentino con i vostri pronostici non solo di chi vince ma anche di tutte queste cose qua VP capocannoniere eccetera eccetera questa è la call to action per Keiko adesso fai quella esatto Keiko mi raccomando dici quanti insomma come andrà la partita dell'Austria noi la seguiremo con molto affetto io ho pensato a te quando ho visto l'Austria però Austria prima ho pensato a te la merita va bene e ci vediamo alla prossima puntata che non si sa bene quanto sarà però insomma prima o poi succederà si dai settimana prossima giù di lì dai esattamente tra l'altro ragazzi anche edo sì assolutamente continuate a seguirci perché ci sono anche degli ospiti pazzeschi in ballo mi raccomando qualche ex giocatore ma così non si dice non si dice ci saranno grandi grandi ospiti non si dice perché non lo sa no 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 è sicuro dai ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti